Oggi molti siti web includono il pulsante Chiamami che consente agli utenti di essere contattati telefonicamente dai gestori del sito web. Anche SuperSite 10 include questa funzionalità, utile appunto a contattare telefonicamente un numero preimpostato recuperato dal profilo dell'utente se presente. È però necessario che nel computer dell'utente sia installata un'applicazione adatta a questo scopo, per esempio Skype. In questo tutorial ti mostrerò come procedere. Per inserire il pulsante clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto e poi su Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget seleziona Chiamami presente nella sezione Contenuto. Trascina l'elemento in questione all'interno della pagina in una delle aree celesti che vengono selezionate dal sistema. L'elemento per la gestione della chiamata è così inserito all'interno della pagina. Cliccaci sopra per impostare i parametri. Inserisci il numero di telefono, il testo visualizzato nella pagina. Scegli la dimensione del carattere del testo. Scegli se impostare il grassetto o il corsivo e l'allineamento del testo. Una volta ultimate le modifiche, clicca Salva per renderle effettive. Infine pubblica le modifiche e visualizzali in anteprima dall'apposito pulsante. Questo è il risultato.